L'amministrazione comunale di Teramo prosegue con i lavori per la realizzazione delle corsie ciclabili, questa volta è coinvolta la parte est della città, quali zone in particolare? Sì, dopo la parte ovest fino al polo scolastico della Cona dello scorso anno, adesso si guarda a destra e si guarda a questa parte che va da via Po, via De Gasperi, ponte San Gabriele, ponte San Francesco e poi successivamente di notte, perché le condizioni di traffico purtroppo ci consentono solo questo, faremo di notte via Le Crispi e via Fonte Regine, in modo tale da strutturare tutta la parte est della città con una ciclabilità elevata, tale da poter dare un servizio alternativo all'utilizzo dell'auto. Queste strutture sono tali appunto per incentivare i cittadini, i costi concittadini, a utilizzare forme alternative. Abbiamo visto che dei dati, ad esempio le indagini di lega ambiente di qualche settimana fa danno un inquinamento di biossidi di azodo in modo particolare, anche eccessivo. E quindi facciamo di tutto per cercare di invogliare chi fa una faccenda adesso, una piccola distanza dentro l'area urbana, invece di prendere il SUV, può prendere benissimo una bici e fare la faccenda che deve fare. Lei per questa sua spinta forte verso le politiche di tutela ambientale è stato anche fortemente criticato, come replica? È normale, accade in ogni città, però bisogna avere il coraggio di farle, di proporle, di sperimentarle, perché poi il futuro va in quella direzione. Quando si parla di utilizzo di spazi pubblici tutti quanti si sentono bolesi dell'uso che ne fanno, però pensiamo che liberare le piazze come Piazza Marti e Piazzossini dei furgoni sia stata un'ottima cosa, come incentivare le aree pedonali pensiamo che sia un'ottima cosa, ma non perché lo dico io, perché lo dicono le storie delle città in questi ultimi anni. Quindi utilizzare le strade in modo alternativo anche, quindi non solamente con le auto, soprattutto in ambito urbano ci mancherebbe, pensiamo che sia un modo sicuramente per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.